Un salve a tutti da Philips89, siamo qua su XCOM Gimera Squad, andiamo a fare questa missione principale. Bene, sì sì, abbiamo una squadra. Bene, buona visibilità, tutte le unità che entrano da qui ottengono il 25 di mira durante l'irruzione. Bene, la prima unità che passa da questo ingresso a una di armatura. Bene. Woodmother. Terminal e Cherub. Oh, c'è lui. Ok. Oh, c'è lui? Oh, c'è lui? attacca lui allora attacca schiavo e schiavo quindi muoviamoci no non ci muoviamo non attacchiamo nemico fuori dai giochi una moltitudine di suoni e attacca che rompe sicuramente posso ancora combattere è per questo che mi tenete con voi allora io non civile bene vai qui ricaricato attacchiamo lui chiaro per l'ora di fare peccato il bersaglio sono protetto arrivo 58% vediamo se ce l'ha fatto si beh messo un server solo un'altra imboscata della progenie continuiamo a confonderli prepariamoci ed entriamo ingresso esplosivo tutta l'unità non è esplosivo sì tutta l'unità non aggressiva a guardia di questo ingresso rimangono sorprese sorprese al corpo è messo a segno durante l'irruzione stordiscono scansione rapida tutte le unità che passano da questo ingresso è marcata fino alla fine dell'incontro non so che chi me la fa fare facciamo queste restate dietro di me non so che C'è un po' di... Ok, due va a dormire. C'è il don' Dai! Dai dai! non ce l'ha fatto vedere questo attacco chi attacca? schiavo lui è lui aspetti dove sei? no hai un 61% toglietevi di mezzo nemico ucciso come da procedura? la prossima volta mira alla testa chi attacca? lui ok facciamo fuori no i suoi occhi sono come oscurità liquida è molto no a good mother Listo! Sangue sulla giacca? Di nuovo? Sei ancora in piedi? Eh vabbè Che attacca poi? Sì, vai qui Un po' scoperto Mi proteggo Attacca schiavo Sto arrivando Abbattuto il nemico Sto ricaricando No, alla fine del turno si ricarica il zucchero Colpisci lo, ti pego Meglio te che a me Meglio te che a me Potrebbe essere la server farm Tutte le unità che entrano da qui ottengono il 25 di difesa per un round Gli nemici infliggono uno di danno I colpi messi a segno durante l'eruzione stordiscano Se non uccidano Se non uccidano Seguitemi No 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 Allora che attacca? Schiavo, schiavo! Questo spiega il picco di energia! Distruggete il Zephyr! Questa non ci fa paure! Versaglio ucciso! Basta, idiota! Ah! Ferita superficiale! Resta a terra finché non stai bene! Allora il Codex farà qualcosa di... Abbiamo una buona mira sul Codex! Proviamo... Attacca! È andato a vuoto! Imparerai! Allora! 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 Facciamo fuori il Codex! Eh? Tu hai chiuso! Le tempeste squarciano le profondità! Seppur un po' è Il nemico ci ha salutato Bersaglio a terra Non vedo movimenti Molto meno superficiale di me Sto bene Non ha colpito l'osso Mi hanno colpita Ancora in piedi Sì, serviranno dei punti Disposto Bella mossa L'armatura del bersaglio Ha deviato il colpo Ostile a terra Grazie Possiamo respirare un po' Allora facciamo cura Godmother Ora lo spray tecnologico Farà il suo lavoro Grazie Diamo un turno Magari Vai Vai ora Attacca lui Un bersaglio in meno Merda E quello non l'avevo visto Era il poeta Riduco lo scudo No Vedete se riesce a mirare Quell'altro No Dobbiamo scappare Mi muovo Versaglio a terra Ricaricato Ben fatto Il codex della progenie È completamente offline Attenzione Il consiglio cittadino Ha convocato Una seduta di emergenza La fiducia nella centrale 31 È ai minimi storici È colpa della progenie Sembra sia tutto a posto Ma se ci sono ripercussioni Vi farò sapere La progenie è in cima All'edificio più alto Di Old Town Da lì Ha una visuale Su tutta la città Sta assemblando Uno strano dispositivo Deve essere L'obiettivo finale Elimina la progenie Ah la possiamo già fare Bene Ho una squadra tattica La autorezzerei qui Bene ragazzi Per oggi è tutto Se l'episodio vi è piaciuto Vi invito a lasciare un like A commentare A condividere E ad iscrivervi Se non l'avete già fatto Un saluto da Philips89 Alla prossima Ciao